Con i primi bombardamenti al confine tra Turchia e Siria è scattata a mercoledì pomeriggio Fonte di Pace, questo è il nome della nuova operazione militare turca contro i kurdi nel nord-est della Siria. L'attacco era stato annunciato poco prima su Twitter dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan che precisava miriamo a neutralizzare la minaccia terroristica contro la Turchia e a creare una zona a cuscinetto per stabilizzare l'aria. I primi bombardamenti stando ai media turchi sono stati compiuti contro la città di Ras Al Ain ma le esplosioni sono state sentite anche in altri centri urbani al confine tra Siria e Turchia. Gli attacchi arrivano all'indomani della partenza dei militari statunitensi da due postazioni frontaliere per ordine di Donald Trump, partenza vissuta come un volta faccia dai kurdi che per anni sono stati fondamentali nella guerra contro l'ISIS. Tutti conoscono le ragioni dietro l'attacco nel nord-est della Siria, per questo chiediamo la mobilitazione delle organizzazioni dei diritti umani e dei paesi democratici, dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite contro l'attacco turco. Chi non lo farà verrà considerato a favore dell'attacco. Sono già centinaia i civili in fuga dalle zone di frontiera. Sì, non posso fare l'attacco. Noi solo per tutti voi. Chi nonostru si sanno. Noi solo per l'attacco. Allora per l'attacco. Quedosi le distorsioni di kindra.